365 giorni di no alla violenza sulle donne e soprattutto i giovani devono essere portatori di un messaggio sociale di cui mai come in questo periodo se ne sente il bisogno. Lo dicono i numeri, secondo uno studio Ipsos i ragazzi dai 18 ai 29 anni che vivono nel centro nord sono la fetta più larga della società italiana che non riterrebbe la violenza sulle donne come una violazione di un diritto umano universale. Sono aumentate poi dal 7% le donne prese in carico dai centri antiviolenza. Il fenomeno non è assolutamente in calo, ha detto Paola Castagnotto, presidente del centro donne giustizia e noi intercettiamo solo il 10% delle donne che subiscono violenza. È il quadro tratteggiato dalla presidente nel corso del convegno in cui è stato presentato all'istituto alberghiero Orio Vergani il calendario con cui si vogliono sensibilizzare quotidianamente le persone che lo esporranno in casa, negli uffici nelle scuole. Proprio qui gli studenti del Vergani di Ferrara e dell'istituto Savioli di Riccione hanno accolto questa iniziativa in collaborazione con l'associazione Universal Pleasure presieduta da Irene Benedetti, autrice del calendario arricchito dalle ricette degli chef dell'istituto romagnolo. I giovani sono il nostro futuro, sono quelli che dovranno portare avanti questo discorso, devono essere i protagonisti, quindi è importante fare queste cose soprattutto per loro e con il loro apporto. Avete visto due bellissime rappresentazioni che ci hanno fatto capire quanto questi ragazzi hanno recepito il messaggio che noi abbiamo voluto dare. Al convegno era presente anche il questore di Ferrara Giancarlo Pallini che ha ribadito come il 25 novembre e anche l'8 marzo non debbano essere le uniche giornate all'anno in cui si riflette sulla violenza sulle donne ma deve essere tutti i giorni. Per l'occasione al Vergani c'era un menù speciale. Sono tutte chef donna, anche il maestro è donna e hanno preparato alcune ricette che si sono su questo calendario, che sono ricette romagnole perché vengono da Rimini e Riccione, con alcune nostre ricette che abbiamo nei libri che abbiamo anche noi pubblicato e queste sono tipicamente ferraresi. Sono tutte le ricette che in questi quattro anni in cui io sono stata in Europa come rappresentante italiana ho portato ovunque, ho cercato di far conoscere l'Emilia Romagna e tutta l'Europa.